Valentina chi è? devo venire a mandare i miei messaggi ma che sei? ma io ho un sogno vecchio che? sogno vecchio allora, ma direi un cazzo che sei? è inutile che mi mandi sempre i messaggi che c'hai la musica? che che? che musica hai per ora? ma che ti interessa? ma tu così? ma che sogno? mi mandi i messaggi e mi dici che sogno sogno Vito quale Vito? Vito quale Vito? perchè quanto Vito conosci tu? io ne conoscio ancora e allora con Vito sogno io ma perchè mi mandi sempre i messaggi ma che ti mandi i messaggi? qua ha avuto il numero zittate zittate mi scriveste stanotte cose atroce si? mi scriveste cose che mi faceste impazzire e dove si? Vito non sogno Vito e dove si? ripalemmo ripalermo? si la gran concertazione come? niente come vicino a melano? a melano perchè c'è di raffare a melano? eh te lo ammazzo io? ehm mi dice cos'è? sogno Vito non tu non sei non trovito e manco vita eh perchè mi mandi giuro un messaggio così quale messaggio? che dove è stanotte stanotte? si e che messaggio? leggimelo no troppo bastasso no no leggimelo leggimelo e bastasso non lo posso leggere la fai rompere il culo come? la fai rompere il culo e ricu? i caccaloni ah pensava perchè? niente pensavo non posso pensare l'hai pensato a tua mamma guarda tu è cammone la figli sta a mia mamma eh va bene ma ricu mi mandi un altro messaggio stesso si mandimi un altro messaggio io non ne mandi questi messaggi non ne ho mai fatto però c'è a scrivere all'ultimo un'altra parola che ci mettiste che cosa? all'ultimo c'è a scrivere un'altra parola quelle parola? mi mettiste il tuo messaggio vaffanculo mh che ti ha fatto io a te? eh? io a te che ti ha fatto? ma se io ti ho ancora un po' di carusso ma che cazzo riesci a me carusci? così vito eh avevo finito questo vito va a dire come in chiasi niente sempre 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 oh come? senza aver rite va a dire come in chiasi sogno sempre vito a puttana tua mamma va a dire come in chas va a dire come in chas c'è Had Ö cioè la vitori si Grazie a tutti